Ebbene sì, sono la tassa di questo programma, ma quanto vi piace pagarla? Ma Gabriele, era tanto bella la trasmissione, perché dovevo chiamare me? Per rovinare un po' questa atmosfera, Cotu. Non fare domande pure tu, anche tu non ammutinarti, per favore, almeno tu. Perché oggi mi sento particolarmente umile. Capita una volta ogni tre mesi, quindi tenetevela stretta a questa occasione. Lo so, quando la Roma perde è molto difficile fare autoironia, eppure una larga fetta del nostro tifo la fa. Ed è per questo che noi esistiamo, ed è per questo che noi vi mostriamo la nostra carrellata da AS Roma Chic Posting. Vai Cotu. Ah, sì, va benissimo. Ma se te va, eh? Sempre se te va. Allora, siamo in diretta, è il bello della diretta. Ma ve li sognate questi giovani decadenti? Guardate che pezzo di giovane decadente. Non si trovano più i giovani decadenti di oggi. E perfettamente ristrutturati. E perfettamente ristrutturati.